signori seconda per seconda partita ma che devo fare un press anche di Yucane che mi rompe la minchia nooo chi è sto come cazzo mi uscite di un pazzo parsi nooo ma mi è guerra che stai nel Yucane veramente ma come cazzo cominciai perché te l'hai già passato c'è ma guardia quanto costa per le 98 15 milioni a quanto costa amoni porcoddio non taglia Kylian ma biiiip ma biiip ma biiip no 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 pigliela pigliela ooo e me è Scenzaldi che cazzo è una fluchedda 21 ma Kylian e chi è se? che è meglio Abacano gule Ruuu Quanto era quello che ti dicevano capivai Alla Ma che ti sapeste cose Il giulone che ti dicevano capivai Ah 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 Non ti dicevano che Ha vinto una chida Un imbarazzo totale Corri Eh eh Che 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 c'è la mia cazzo chi è? Come on! Mendes! Mendes! La difesa Ciccio, ho difeso bene sto gaggio, no? Mhm! Ma quel cazzo chi è? Ufff! Arriba, arriva, arriva! Sto bastare brutto, no? La cassa S94, già! Aaaah! Questo ti ho graziato, Ciccio! No, c'ho passato e mi graziaste! Ho voluto fare il coglione! Tu spacchia Zambrotta! Ma va tutto! No, va tutto! Senta, Zambrotta mi ho pigliai... No, arrivo! Non ti esce da cazzo! Moriamoci da cacare in gol! A Zambrotta mi ho pigliai il K-Swap! Vai, vai Gullet! Eh, dove mi ha preoccupato! Ma quando si minchia però! Oh! Non è a Frid... Spostolo! Spostolo! Non pensavo che ti ha ragionato! Spostolo! Che cazzo! Ah, gli stava piacendo! Che cazzo! Spostolo! Ancora Messi! Peresic, piglia! Peresic, torna ieri! Eh! Nooo! Non mi stai nemmeno qua! Non mi stai nemmeno aspettando la prima partita! Perchè? Che cazzo! Cazzo! Mi parla più moda con i miei due! Non lo so perché! Ma questo è mica che due coto-facistici è! Sì! Ma è forte questo! Minchia numero uno! 5-5! Eh! Nooo! Eh! Mi hai aperto in due come una gozza! Eh! Sempre stavo in due! Nooo! Maria! Ma che due... Cazzo! Oh! Che andiamo a fare recuperare? Non l'ho capito! Nooo! Grande cozza! Così! Cozza tutto! Nooo! Ahahahah! Kimbe! Se il numero uno! Anche che... Minchia tutto culo! Ah! Ma che cazzo! Oh! Il numero... No! Ma che cazzo! Mi ha visto... Ma qua ho presso! Non ti permette! No! Ma che cazzo passaggio è? Ma... No! Ma me la da spiegare! Veramente! Ok! vai, Roux, vai vai caçuta, caçuta, caçuta sta la bambiano, biancao no non è male che c'è ma che questo non è agilo come che aveva war maronna putta quanto me lo mangio a partita, quanto, quanto Nooo! Nooo! Eh, magari... Eh, magari... Siamo con Ciccio due senza mano Più che meno siamo due senza mano C'è poco da fare una pramica Ce ne faranno sì, ma a livello a livello delettante Fuori gioco? Nooo! Perisic Sì, magari Mancino, porco tu signore Perisic! Perciò, non lo so Scusa, come fai che stai solo? Non mi posso fare questo paletto Non mi posso fare questo paletto Non mi posso fare questo paletto Preferisco di gran lunga Uno con il mucoso Eh, ma tutto Oh, Gia2! Ooooooo! Ooooooo! Usa! No, Vigitaliano! Non mi posso Usa! No, Vigitaliano! No, Vigitaliano! Mi piace di oro Eh... Ma finisce! Ma... Ha finisciuto come sta facendo neonare! Mi sta girando la testa! Ma non l'hai caputo! Ma non l'hai caputo! Ho posizionato un bonus in campo! Dai Vecca! Allora! Minchia! Minchia! La testa mi sta girando il mio cane! Ehi! Nooo! Fodel! Fodel! Certo! Quale fodel nave? Un 90! Sto figli buttana! Non lo posso dire! Non lo posso dire! Ha stu pezzi ninja e merda! Ma più forte Holland! Cento mila volte più forte Holland! Eh, si dire! Ha 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 ha! Minchia! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Cento mila volte! Comperci o camperci! Comperci! Ma si! Dai a ammazzare! I romandi più forti! Ammazzarmi! Ha 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 ha! Nooo! Oh no! che cazzo 2 anni è ufficio stavate a fuori bugioni stavate a fuori bugioni la squadra dalla cintolenzio è troppo forte no ma questo qua fu un gol tu hai visto la difesa la difesa è scarsa la difesa è scandalosa ma che c'è l'isola dei famosi oggi è lunedì ma credo che se c'è Arriano l'india ci è smazzato l'india ci è smazzato ho visto una cosa di TikTok però non ci ha messo una cosa c'è Ars qualofagano però non c'è nemmeno a scendere non c'è in cazzo bisogna avere su Arsharri appunto l'india ci può difendere la sua figlia che barbaro tu mai l'hai visto scazzata no? si però sai quello discorso io l'ho fatto fuori a tutti e due perchè chi è una merda c'è in un certo senso mi fregge pena ma io cozza in un certo senso vedi che mi fregge pena poi allora chi da c'è l'isola ma scendata ha sbagliato ok? però di internet ci stanno ranno tu ti ha ragione a chi da Paola no ma io tutto coso non si era per avanza scimunito avanza ma che ti aveva schiappato ma ci abbiamo avuto no dribbling e via ero tu gioppo lontano oh una cazzo laio i miei ooooooooh vabbè 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 no vabbè 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 è stato am Nie만 vabbè 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 io ci ha messo il culo e ci ha messo il mio che dopo c'erano giallo mamma mia dovrai piano beh piano dove c'erano due piano no oh va bene va la vaga è la tiro no 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 è la tiro ma si è un guggio una nascita nascita cazzo si fanculo va Vlaovic ma ruttante Vlaovic è da capire perché ci sono un movimento che fa agilissimo di cuora e comunque ripeto a squadra non mi stai girando aspettare la prima partita come ci ha fatto tre gol non mi stai girando ma stordi non mi fa segnare la cazzo cedda oh pezzo di merda se hai avuto a cosa hai avuto ma io voglio fare un gol con cozza tali ho 5 a 4 oh facci babba dai nè che mi ha coglioniare bravo questo perché me l'aveva luata io a verde vai faccio vedere che sei bugato con ma merda bello 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 grazie